Il sole morirà e sappiamo come, scaglierà una brillante lungolosa planetaria nello spazio. Ecco, questo per evidenziare un aspetto importantissimo, che quando si scopre che qualcosa morirà, non ha importanza intanto il tempo, ma è importante sapere che morirà e poi a prescindere dal fatto come gli uomini che hanno un'aspettativa di vita di 80 o 70 anni, poi molti di essi diversamente muoiono prima. Sì, sono centinaia e centinaia di milioni di uomini che ogni anno muoiono prima del tempo previsto e questo potrebbe succedere anche con il sole, a prescindere dal fatto, come dicono gli stessi scienziati, possa durare per circa 5 miliardi di anni ancora. Sì, quella sarebbe l'aspettativa di vita. In effetti, quando vediamo, quando il sole morirà, tra circa 5,5 miliardi di anni, farà sorgere una spettacolare lungolosa planetaria, eccetera, eccetera. Ecco, questi sono i dati tecnici, ma nel momento stesso, come dicevo poc'anzi, che si sa che il sole, così come altri corpi, pianeti o corpi astrali moriranno, si sa anche automaticamente che la loro morte potrebbe arrivare in qualsiasi altro modo e molto prima del previsto, come appena detto, così come vale per gli uomini o ogni altra forma di vita sulla Terra. E allora qua noi vediamo che danno delle spiegazioni scientifiche che prima non conoscevano. Sino ad oggi, infatti, a causa della massa troppo ridotta, non era affatto sicuro che la nostra stella avrebbe formato una brillante e umbulosa planetaria. Tuttavia, grazie al modello emesso, e qua appunto spiegano i dati tecnici, evidenziano che anche il sole, prima di morire, ingoglierà i vari pianeti vicini e anche la Terra. Ecco, ma allora noi vediamo un altro aspetto di questa nuova scoperta scientifica, che però, come spesso accade, è parziale, o almeno è mancante della parte più importante, come appena evidenziato, sì, che quello che loro hanno previsto fra 5,5 miliardi di anni potrebbe succedere anche domani. E allora noi andiamo a vedere questo aspetto. Ecco, ma prima di farlo, voglio evidenziare le tre righe che metto sempre sui vari articoli che pubblico sui social. E dice, questo dimostra che il sole un giorno non ci sarà più, se fra 5 miliardi di anni o domani, nessuno può saperlo con certezza. Ecco, allora noi vediamo l'altro articolo che parla del sole, e lo fa uno scienziato italiano molto in gamba, che dice che il sole è sotto osservazione da quasi 300 anni. L'astronomo, le tempeste, dice, ecco, ma prima di andare avanti voglio evidenziare anche in questo caso le due righe sopra, tentare di conoscere il sole è come pretendere di sapere come sarà il nostro futuro. Cioè, impossibile. Noi sappiamo del nostro futuro solo dopo averlo vissuto. Ma entriamo nell'articolo. Ecco, entrando nell'altro articolo noi possiamo leggere. Cosa succede sulla nostra stella? Ultimamente il sole non presenta macchie solari, e qua fa riferimento, ecco, dicevo, qua fa riferimento a quello che potrebbe succedere di drammatico alla Terra se il sole scatenasse una tempesta solare come avvenuta nel 1800 e anche nel 1921. Sarebbe una catastrofe enorme, come spiega lo stesso scienziato. E qua, appunto, evidenzia come il sole non presenta i macchi solari. Dobbiamo allarmarci? Cosa significa? Per ora quel disco di fuoco è quieto, non sbuffa. E sembra non darci tante preoccupazioni dal punto di vista di tempeste elettromagnetiche o altri fenomeni che potrebbero avere conseguenze non proprio positive per il nostro pianeta. E qua, appunto, va avanti. L'esperto spiegando, in modo semplice, la dinamica del sole. Ultimamente si è parlato molto della possibilità di un ritorno all'inizio del 1800, proprio a causa di una tempesta magnetica come quella avvenuta nel 1859. E allora, cosa si deve attendere dal venticinquesimo ciclo solare che sta per iniziare? Ogni ciclo dura, come dice, mediamente 11 anni. Che sarà? Quale sarà l'evoluzione della nostra stella? E infine, cosa abbiamo capito del sole in quasi 300 anni di studi? O abbiamo chiesto a Mauro Messerotti, ricercatore astronomico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica in forza dell'Osservatorio di Trieste? Ecco, qua chiedono, chiedono vari chiarimenti su ciò che potrebbe essere, quello appena detto, un evento drammatico per la Terra. E qua dice appunto Professor Maserotti, nelle ultime settimane, eccetera eccetera. Ecco, ma il professore, come ho detto prima, in modo semplice ha spiegato tutti i fattori passaggi dicendo che è quasi impossibile sapere quando potrebbe succedere ciò che è successo nel 1859, non escludendo che ciò possa succedere in qualsiasi momento, come appunto riferisce nello stesso articolo. Ma noi andiamo avanti man mano, ecco qua dice che anche nel 189-121 c'è stata sicuramente una tempesta superiore in termini di caratteristiche ed impatti. Siccome abbiamo una statistica insufficiente per questi eventi estremi, è impossibile per vedere quando potrebbe verificarsi i prossimi eventi del genere. Se comunque dovessimo avere una tempesta geomagnetica simile a quella del 1921, gli effetti sui sistemi spaziali, su quelli terrestri, nonché sui sistemi biologici, sarebbero sicuramente catastrofici e di lunga durata, come indicano i scenari simulati. Oggi infatti le tecnologie sono molto più sofisticate ed anche più sensibili alle perturberazioni spaziali e la nostra società è sempre maggiormente dipendente da essa. Ecco, qua poi va avanti, come si può vedere, in altre domande il giornalista e lo scienziato risponde, come dico, in modo semplice, ma sono, come dico, vari dati tecnici oramai. Ecco, la cosa più importante è che si rallaccia l'articolo di prima, la si vede però alla fine della sua intervista, o la si legge, meglio dire. Sì, questo è il professore, lo scienziato. Qua poi continuo ancora nelle varie domande, che sono interessanti, ma solo fino a un certo punto. E qua fa riferimento soprattutto alle radiazioni X, quelle ultraviolette, i loro flusso, eccetera, eccetera. Ecco, il tutto viene però, riallacciandomi all'articolo di prima, ad una conclusione, che è la più semplice e la più logica, è quella che è più certa, anzi certa. Sì, perché alla fine, come dicevo prima dell'articolo, qua fa vedere le varie situazioni grafiche dei periodi dei cicli del Sole stesso. Ecco, se uno può leggerlo, può leggerlo con calma, o anche direttamente dal giornale, ma a me interessa un aspetto, il più importante, che racchiude tutto, tutte le spiegazioni che danno, inerente, ovviamente, alla morte del Sole, alle sue radiazioni catastrofiche che possono distruggere la Terra, al suo spegnimento, eccetera, eccetera, come ho già evidenziato in altre decine di video pubblicati. La teoria ci dice che il Sole brillerà per altri 5 miliardi di anni, ci conferma la notizia? E qua lui risponde. Ma la cosa più importante è proprio questa, che dice che l'uomo non ha una conoscenza tale da poter capire e sapere quando lo spegnimento del Sole o brillamenti solari così potrebbero, come abbiamo visto all'inizio, possono e potranno colpire la Terra. Ecco, questa è la parte più importante, perché gli uomini non hanno la conoscenza di quello che potrebbe fare il Sole in qualsiasi momento. Sì, come dicevo noi, abbiamo un'aspettativa di vita di 70-80 anni, ma potremmo morire fra un attimo, e allora questo spiega tutto che non è possibile sapere quando finirà la vita del Sole o della Terra. Ecco, per evidenziare e concludere questo breve video, è sufficiente leggere queste tre righe. D'altra parte, la stella Sole è un sistema caotico, complesso, e quindi le previsioni del suo stato fisico futuro presenta molte varianti possibili. Quindi non è certo che il ciclo di 25 anni sarà in minore intensità, come la tendenza sembra indicare, e questo vale anche per la stessa vita del Sole come della Terra. Grazie. Grazie.